Torniamo sugli invasi della provincia di Foggia gestiti dal consorzio per la bonifica della capitanata con il presidente Giuseppe De Filippo. Non piove? Fa caldo? Come siamo messi? C'è acqua a sufficienza? Sicuramente per adesso sì. È chiaro che questo inverno dovrà piovere perché se no non potremo fare una stagione in rigua regolare. Ovviamente per il potabile non c'è nessun tipo di problema anche se abbiamo almeno 20 milioni di metri cubi in più nella diga rispetto allo scorso anno che si spiegano con superfici investite a pomodoro l'estate appena trascorsa nettamente inferiori al passato. Siccome il pomodoro dell'industria è quello che sostiene forse di più l'agricoltura foggiana ma nel contempo è anche quello più idrovoro, diciamo che l'investimento minore a superficie di pomodoro sicuramente è inciso con una maggiore riserva idrica. Ma resta inteso che se non piove quest'inverno la stagione rigua non si farà. Per il potabile invece? Per il potabile chiaramente anche i nostri protocolli di protezione civile e tutto quanto il resto ci impongono a tenere sempre da parte la riserva idrica per il potabile salvo che non piova poi per un anno intero e lì ci sarebbe diciamo tra virgolette un'apocalisse. Quindi per il momento siamo tranquilli? Assolutamente sì. La famosa acqua che doveva arrivare dal Molise che fine ha fatto? Il Molise intanto non sta completando l'opera di ampliamento del suo consorzio quindi non sta arrivando ai famosi 10 chilometri da arrivare noi. Mi auguro nei prossimi giorni di fare meglio il punto della situazione dopo diciamo così le elezioni che sempre sono un momento ovviamente sospensivo di tutte le attività per cui riprenderemo per la parte nostra a quel tipo di attività. Quindi c'è fiducia? Assolutamente sì anche perché i molisani ripeto hanno ribadito il principio che vengono prima loro e poi quella che avanza è la nostra ma noi sappiamo benissimo che l'acqua al Molise avanza per oltre il 50%. Intanto nell'ambito del CIS sono stati finanziati ben 11 progetti per rifare un po' tutte le reti gestite dal consorzio. Certamente il consorzio di bonifica per la Capitanata nella sua immensa grandezza ricordiamo che ha 440.000 ettari di comprensorio di cui 140.000 ettari rigui, 4 dighe, 3 torri piezometriche e 15 stazioni di pompaggio denominate polder. Assolutamente bisogno di una continua sostituzione di tubature che in alcuni casi hanno quasi mezzo secolo diciamo e hanno ovviamente dei problemi dove abbiamo tubature in vetroresina, dove abbiamo fibrocemento, dove abbiamo acciaio, dove abbiamo quindi ossidazioni, problemi, correnti galvaniche e quant'altro. Bisogna dire che dal 2014 al 2022 l'area dell'ingegneria del consorzio di bonifica per la Capitanata con un ottimo settore ingegneristico ha presentato progetti per circa 440 milioni di euro dal 2014. Di questi 85 progetti, più di 30 sono stati già finanziati per un ammontare di 180 milioni di euro, circa 250 milioni di euro di progetti sono in corso di approvazione. Nel 90% dei casi trattasi di progetti di manutenzioni di opere e condotte irrigue, anche manutenzione se vogliamo dell'imbocco della diga di occhito che è sempre diciamo l'opera magna della nostra irrigazione e poi altri progetti che può essere anche quello della modernizzazione della distribuzione delle acque come completare tutta l'area degli acqua card, cioè di quei contatori che da manuali sono diventati elettronici con la scheda per aprire e chiudere e contabilizzare le acque. L'ultima tranche dei progetti sono questi progetti presentati nel CIS che sono appunto stati un momento straordinario dedicato ovviamente al miglioramento delle reti idriche nei quali poi ovviamente non potevano mancare circa 11 progetti presentati appunto da parte nostra.